Nella dimostrazione che il fenomeno dello spaccio è strettamente connesso ai reati contro il patrimonio, nel corso della notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Albenga hanno tratto in arresto uno spacciatore di origine nordafricane e contestualmente denunciato per il reato di recitazione, poiché a seguito della perquisizione di fondi rinvenuti nella sua disponibilità sono stati ritrovati molti elettrodomestici, televisori, strumenti musicali, computer, telefonia, smartphone e quant'altro che gli inquirenti ritengono provento di illecito, di furti commessi recentemente ad Albenga, nei concentri di Albenga ai danni di molti esercizi commerciali e privati cittadini. Tutti coloro che hanno sporto denuncia presso un comando dell'arma sono pregati di venire qui da noi in caserma in piazza Caduti Nasseria 1 al fine di riconoscere i propri oggetti e di avviare le pratiche per la restituzione. Grazie. 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 Grazie.